Poi sono tornata a casa, ma sapevo che a casa avrei ritrovato quello che avevo lasciato. Ecco, tenendo conto che lassù mi ero formata un'altra personalità e ero molto rispettata, non solo perché mi avevano dato i gradi, ma quando c'erano delle operazioni delicate da fare mi mandavano per i collegamenti, eccetera. Cioè, ero molto valutata e non avevo, non intendevo più accettare di andare a casa dove dovevo domandare che cosa dovevo fare. Cioè, per essere costantemente, subire l'osservazione, ma tuo fratello dice, ma tuo padre dice, eccetera. Come sono venuta a casa, ho detto con mio padre, io non voglio più lavorare in casa, ma voglio trovare una dimensione di vita mia, trovarmi un tipo di lavoro, no? per quale essere indipendente e poter dare il meglio di me stessa perché in casa sono soffocata. E papà ha accettato. E allora ho cominciato a lavorare, costruire le cellule femminile, costruire il movimento femminile e poi mi hanno chiesto di fare il lavoro, cioè ho fatto una scuola di partito e poi mi hanno mandato fare il lavoro sindacale. E lì ho cominciato a fare il lavoro di difesa dei diritti delle donne. In quel momento avevo determinato quella scelta, no? Che avrei lavorato in sostituzione di quelli che erano morti e per realizzare le cose a cui aspiravano, che in definitiva erano anche le cose mie, capisci? Cioè l'aspirazione era molto semplice, avere il lavoro, poter far vivere meglio la famiglia, poter mandare a scuola i figli, no? Vivere in una società dove ognuno avesse la possibilità di esprimere i propri pensieri, metterli a raffronto con gli altri, no? Avere delle idee, ma nello stesso tempo difendere i diritti della collettività, non solo individuali, ma anche i diritti della collettività. Ecco perché come ho cominciato subito a lavorare come partito, pur non avendo delle grandi capacità, ma costruiamo le cellule femminili perché le donne uscivano da quella realtà, non ero la sola, uscivano tutte da quella realtà. E per discutere i problemi, imparare a votare, quali erano i problemi delle donne, quali erano le rivendicazioni delle donne, dovevamo discutere assieme. Ecco, per cui per discutere assieme, se discutevamo con gli uomini, nessuna donna parlava. Invece una formazione complessa di esclusive donne ci permetteva di discutere gli stessi problemi che discutevano le donne e inserire la nostra tematica rivendicativa. Poi va detto che subito dopo la guerra c'era una miseria spaventosa, i bambini per la strada. Ecco, allora la prima iniziativa che io proposi fu quella di un asilo nido. C'era un asilo, ma era troppo piccolo per tenere tutti i bambini. Lì, in via Baissizza, c'era il Case Popolare, c'era una miriade di bambini che stavano tutti i giorni per la strada in attesa che la mamma tornasse. Per cui mangiavano al mattino e alla sera, perché a mezzogiorno. Difficilmente aveva la famiglia i mezzi, capisci, per dargli un pasto. Allora il problema era di fare un asilo, raccogliere quei bambini, toglierli dalla strada, i bambini che non andavano a scuola, toglierli dalla strada, riunirli, parlare con loro, cioè dargli un minimo di garanzia, di serenità e dargli anche da mangiare. Il Partito Comunista ci regalò la sua sede, che era un piccolo appartamento che c'era lì alle Case Popolari, e ci siamo messi a discutere come farlo. La grande battaglia degli asili è stata la prima importante battaglia assieme al diritto al voto, parità salariale, eccetera.